Questo servizio è offerto da Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web Seguitemi sul mio nuovo blog Mi trovate anche su Facebook New Andreas Italian Football Professional Shoes Basto assortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time Produzione propria artigianale made in Italy New Andreas Shoes lo trovi in Via De Gasperi 85 a Dueville, Vicenza A soli 800 metri dal casello autostradale di Dueville Con un gol di Cicconi ed uno di Riganò La Florenzia batte un bel grosseto Forse la squadra più in forma vista qui a Firenze Come ha detto anche Cavasin Resta così intatto il vantaggio su Rimini Ma non si può certo dire che la supremazia di Viola Sia stata schiacciante Anzi, a dir la verità, solo grazie al rigore Trasformato da Riganò al 92esimo La Florenzia ha conquistato i tre punti Nel giorno del 25esimo compleanno del collettivo Splendido il colpodotto della curva Fiesole Tappezzata di cartoncini bianchi e Viola Riganò, con una regolarità impressionante Sigla il suo 22esimo gol in 24 partite giocate Di questo passo il record dei 28 gol con la maglia del Taranto Potrebbe essere infranto